13 cori arcobaleno per un totale di 430 coriste e coristi arriveranno a Bari da tutta Italia per celebrare la comunità LGBTQIA+. Dal 19 al 21 aprile si terrà la sesta edizione di Cromatica Festival, la Kermesse Nazionale dei Cori Arcobaleno con tre giorni di appuntamenti, musica, spettacoli e flash mob itineranti organizzato da Cromatica, l'Associazione Nazionale dei Cori Arcobaleno. Il festival è una manifestazione che supporta le rivendicazioni e la cultura della comunità LGBTQIA+, attraverso il canto corale da sempre mezzo e simbolo dei movimenti di liberazione. La serata di gala di Cromatica Festival al Teatro Petruzzelli di Bari di sabato 20 aprile sarà condotta da Paolo Camilli, attore e comedian conosciuto anche per la sua partecipazione nella giuria di Drag Race Italia. In ultimo, domenica 21, appuntamento con flash mob diffusi in diversi punti della città di Bari in cui i cori si esibiranno colorando piazze e strade con i loro canti. Accogliamo volentieri il 23 aprile la legge regionale a cura del consigliere Donato Metallo e questa è finalmente una concreta rivoluzione che dal basso rivendica i diritti civili ma soprattutto fa sì che nessuna e nessuno si senta solo a Bari.